Exoratix, 8 minuti, porto di extra, motore mini di combusto con 125 cavalli di potenza. La troviamo oggi nell'arrestimento ST-Line e nella colorazione grigia. Possiamo visionare questo fantastico cerchio e lega del raggio di 17. Spostandoci poi sulla parte posteriore della vittura, la troviamo, sarebbe da 42 litri e un ampissimo bagagliaio della capione di 312 litri. Abbiamo ovviamente il sensore di parcheggio posteriore. Nella parte anteriore possiamo trovare comandi al volante per gestire il nostro smartphone, schermino touch dal quale possiamo gestire l'infotainment e il navigatore, accensione keyless, cambio manuale, freno di stazionamento manuale. La vittura è stata matricolata fino a 2018, è limitata a benzina e ha 78.500 km. Vieni a visionare queste e altre forme sul nostro sito rattix.com. Grazie. Grazie.